Proseguono i lavori per la messa in sicurezza definitiva di Via per Sanfermo, chiusa dal dicembre scorso per uno smottamento. Il cantiere, dopo essere stato interrotto lo scorso marzo, è ripartito martedì e oggi gli operai hanno installato le prime reti paramassi, indispensabili per la messa in sicurezza del versante della montagna e per evitare altri danni causati da possibili frane sulla strada. I lavori erano stati interrotti a causa dell'emergenza coronavirus, una decisione presa dall'azienda che si occupa degli interventi per l'impossibilità di garantire le condizioni minime di sicurezza per la situazione sanitaria. Il cantiere dovrebbe ora concludersi in circa quattro settimane. La strada resta dunque completamente chiusa al transito, ma il Comune sta valutando la possibilità, purché non rallenti il completamento dei lavori, di aprire la via a senso unico alternato regolato da semaforo, già prima del completamento del cantiere. Grazie a tutti.